Amici, è con immenso piacere che inauguro questa nuova serie da uno dei paesi che più volevo visitare da più anni. Benvenuti in Cina. Ma come mai in Cina non ci sono andato prima? Perché ho sempre visto questo immenso paese come una destinazione un po' più speciale, più complicata rispetto alle altre, che necessitava anche di più giorni, ci vuole un lungo viaggio per apprezzare la Cina, e non era nemmeno la destinazione più economica, quindi per lavoro ho dovuto sempre rimandare. Rimanda, 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 a un certo punto mi decido a partire pensando che comunque non dovevo fare tutto in un unico viaggio. Da qualche parte dovevo pure iniziare, ed è iniziata anche la pandemia. Con il Covid la Cina è rimasta chiusa per tre anni, durante i quali ho capito che dovevo smetterla di rimandare, perciò non appena ha riaperto le porte al turismo, io e Telespallavale ci siamo organizzati per compilare tutti i documenti online. Non sono mai entrato in Cina illegalmente, non ho precedenti penali, credo di non avere disturbi mentali, ho mai ricevuto un addestramento o possiedo abilità particolari relative alle armi da fuoco. Mi hanno anche chiesto quali paesi avevo visitato durante gli ultimi quattro anni, ci ho messo un pochino a riempire quella sezione. Abbiamo prenotato voli, hotel, stampato tutto accuratamente, portato assieme ai nostri documenti all'ufficio visti a Milano, pagato, abbastanza, ed ecco che dopo un po' di giorni ci hanno ridato i passaporti con il visto Cina, dicendomi, vai in Cina a fare video? Stai attento a quello che filmi. Ok, avanti un mesetto ed eccoci a bordo del volo che ci porterà a scoprire il paese del dragone. Come si chiama la Cina? Aspetta, cioè Giappone, paese del sollevante. Cina, paese del dragone. La terra del dragone, andiamo a scoprirla assieme. In questa serie di video che non so quanto durerà ma sono sicuro che vi piacerà perché è stato un viaggio pazzesco. Spero il primo di una lunga serie, perciò mettetevi comodi che questa serie sta per cominciare, come sempre dopo lo sponsor del video di oggi. Viaggiare è molto più complicato se non conosci l'inglese, che è in assoluto la lingua più utile da sapere. Se pensi di aver bisogno di migliorare il tuo inglese, puoi fare affidamento su Cambly. Attraverso le video lezioni in videochiamata con uno dei tantissimi tutor madrelingua che Cambly mette a disposizione proveniente da tutto il mondo, puoi iniziare a vedere i primi miglioramenti in poco tempo, gestendo il tutto nella maniera più flessibile, sfruttando i vari strumenti che Cambly mette a disposizione, anche gratuiti, e seguendo i corsi e i workshop più specifici, come ad esempio l'inglese per i colloqui di lavoro. Magari vuoi migliorare il tuo inglese per degli esami universitari, oppure per i viaggi. Di motivi ce ne sono tantissimi, di sconto che devi assolutamente utilizzare durante il mese di novembre, perché ci sono le offerte del Black Friday le più convenienti che han fatto. Ce n'è solo uno, Safari 60 Wow, per avere il 60% di sconto su tutti i piani annuali, così vai a pagare a partire da 9,99€ al mese, che è un prezzo super competitivo. Però questo sconto vale soltanto per novembre, quindi approfittatene, usate il codice, date un'occhiata al link che trovate qua sotto in descrizione, e buona continuazione del video. Ho gli occhi secchi di chi ha passato la notte insonne, ed effettivamente non ho dormito sul volo, ma andiamo comunque a farci un bel giretto in questa nuvolosa città di Pechino. C'è molta meno gente e meno caos rispetto a quanto mi aspettassi, e c'è veramente tanta polizia che mi hanno sconsigliato di filmare. Questa qui davanti a noi è la celebre piazza Tiananmen. Avevo letto che è consigliabile andare in giro sempre con il passaporto in tasca, ed effettivamente per entrare qua ci hanno chiesto i documenti, controllavano tutti ad un checkpoint della polizia. Doppio controllo, però vabbè, un luogo di una certa rilevanza storica ci può anche stare. Però per visitare piazza Tiananmen è necessario prendere appuntamento gratuitamente tramite WeChat, che è un'app utilizzatissima qui in Cina. Però va fatto il giorno prima e noi ieri eravamo in Italia, quindi ci siamo presentati comunque i controlli per vedere se magari ce lo facevano sul posto. Non si può fare, ma le guardie di sicurezza sono state gentilissime perché non ci arrivavano i messaggi di conferma e quindi con il loro telefono e il loro numero ci hanno fatto la prenotazione per domani mattina. Abbiamo fatto una fotografia allo schermo e domani ci presentiamo con quella. WeChat è abbastanza fondamentale per venire in Cina. La cosa strana è che per registrarti devi avere qualcuno che ha già WeChat da tot tempo, sei mesi, che ti scansiona un QR code e ti approva, diciamo, la registrazione. Però poi da lì puoi fare un sacco di cose dal pagare nei negozi o i mezzi pubblici al compilare il form che ti richiedono all'arrivo per quanto riguarda la situazione sanitaria. È tutto abbastanza complicato, però è anche molto figo perché sembra un po' un mondo a parte. È affascinante il fatto che così tante cose qui funzionino così diversamente. Ed ecco che la Vale legge la scritta dumplings e ci fiondiamo a mangiare i ravioli. Però in realtà non sappiamo bene cosa abbiamo ordinato perché c'è una abbastanza insormontabile barriera linguistica che ci rende pressoché impossibile comunicare, ma la sorpresa a noi piace. Ci hanno servito, penso, in 70 secondi, però tutte le cose che sono arrivate sono l'opposto di ciò che pensavamo di aver ordinato. Tranne questi ravioloni che sono esattamente ciò che volevamo finisse nelle nostre pance. Questi sono... c'è un pelo. Vabbè, sono molto buoni. C'è un peletto. Non so cosa sia questa minestrina. È tipo quando sbaglia a cucinare il couscous e viene estremamente bagnato. Sono un po' perplesso anche dal fatto che questi piatti siano plastificati. Probabilmente stiamo sbagliando tutto, ma è anche il bello dello sperimentare. Questo bel ciottolone di spaghetti con funghi e zucchine è ciò che mi hanno dato quando ho detto ghiozza. Mi piace troppo questa cosa che non sappiamo niente, sta andando tutto a caso. Probabilmente era il ristorante giusto, sicuramente era l'ordine sbagliato. Adesso andiamo a cercare qualcosa che sia più di nostro gusto. Tanto scommetto che c'è l'imbarazzo della scelta. Questi qui sono quelli che abbiamo preso prima, i Beijing style noodles, ma io voglio assaggiare questa qui. Prendiamo la beef pie. È calda. È calda. È calda. È acqua calda. Tirano il tè. No, credo che si beva proprio l'acqua calda. Secondo me potresti lavarci i piatti. È una specie di piadina molto umida, molto sottile, con all'interno carne macinata di manzo. Oh, grazie. Questa mi piace molto. E poi è arrivata anche questa carne che ha preso la Vale, che dovrebbe essere pollo e arachidi. Anche piccante. È forte? Effettivamente è parecchio piccante. Ottima merenda cena. Mi sto già innamorando di questi posti, di queste vie, di queste case con le porte spalancate, con dentro la gente che mangia. Bisogna solo stare attenti alle bici e ai motorini elettrici. Ma sai che mi fa molto strano il fatto che il cielo sia rosso? Cioè, sono consapevole che magari sia inquinamento luminoso, però è proprio bizzarro da vedere. La sera illuminano tutto, diventa una meraviglia. Se non fossi così cotto stare in giro tutta la sera, tutta la notte a camminare. Siamo andati di là della strada per fare due riprese. Per tornare indietro ci hanno richiesto i documenti. Chissà se è così solamente a Pechino o comunque nelle città. Sapete però cosa sto notando? Che qui, anche nella zona un po' più frequentata, questa via piena di gente, piena di negozi, non ci sono combini. L'unico che abbiamo visto, un Lawson, era dentro l'aeroporto. Ammetto che mi aspettavo di vederne molti di più. E invece, guardate cosa c'è qua, un bel Lawson. Mi sento a casa. Mamma mia quanto è comodo sto letto ragazzi, devo recuperare un po' di ore di sonno, ci vediamo domani. Buongiorno amici da una immensa piazza Tiananmen. Entrare qui non è stato semplicissimo, ci hanno fatto diversi controlli. Quattro volte hanno guardato il passaporto, due volte hanno guardato il visto cinese, altre due volte hanno controllato la prenotazione fatta ieri dai militari che ci hanno dato una mano perché non ci arrivava il messaggio di conferma tramite sms, dato che il numero collegato a WeChat è il nostro numero italiano. E poi ci sono stati controlli di sicurezza tipo quelli aeroportuali, hanno perquisito lo zaino, il marsupio, noi, cioè ci hanno tastato completamente. In più mi hanno aperto la borsa, hanno tirato fuori l'attrezzatura fotografica, mi hanno chiesto come mai del microfono. Avevo una bottiglia di acqua, me l'hanno fatta assaggiare. Sono stati molto fiscali ma anche molto carini, cioè nessuno parlava inglese, però erano tutti molto disponibili e pazienti perché non capivamo bene cosa dovessimo fare. Adesso siamo qui al centro della piazza, lì c'è la gigantografia di Mao Tse Tung, ci sono un sacco di persone che fanno le foto, ragazzini che filmano TikTok e tante, tante telecamere di videosorveglianza. Ciascuno di questi lampioni ha dei rami pieni di telecamere, se mi mettessi a contarle ci metterei troppo. È una situazione estremamente controllata ed è pieno di polizie e di militari. Piazza Tiananmen è sicuramente uno dei luoghi più iconici della storia cinese, che a tutti fa venire immediatamente in mente le foto delle omonime proteste del 1989. Penso che questo sia anche il luogo al mondo in cui ho visto più telecamere di videosorveglianza. Non puoi fare un passo senza averne almeno un paio puntate addosso, è una roba assurda. Che poi in realtà è in tutta la città di Pechino e così. E si tratta di una delle primissime cose che ho notato. Ci sono telecamere ovunque e le abbiamo trovate, anche se magari in minor quantità, pure fuori città. Qua metto le clip che ho fatto per farvi vedere quante telecamere di sorveglianza ci sono e la cosa più sospetta è avere un occidentale con la macchina fotografica che le fotografa tutte. Ufficialmente tutte queste telecamere sono state installate per rendere le città più sicure, fungendo da deterrenti per la criminalità e i comportamenti scorretti. E Pechino è una città molto sicura. Pare però che questa sorveglianza di massa possa anche essere una scusa per una forma di controllo sociale, per tenere sotto controllo chiunque vada contro il governo. Quando ho parlato per la prima volta dell'argomento ho raccolto pareri discordanti. Molti erano a favore perché vogliono più sicurezza, molti altri vedono la cosa come un limite alla libertà. E in effetti la Cina non è famosa per essere un paese particolarmente libero. Voi cosa ne pensate? Come la vivereste se a un certo punto nelle città italiane spuntassero tutte queste telecamere? Comunque andiamo verso la città proibita. Allora aiutiamoci un pochino con la mappa. Qui c'è la Arrow Tower, quella che abbiamo visto ieri, che era anche tutta bella illuminata. Gate Tower, quindi la prima porta di accesso. Il memoriale di Mao. Monument to the People's Heroes, questo qua al centro. La National Flag. E adesso siamo qui dove c'è Tiananmen, ovvero la porta di accesso alla città proibita. Abbiamo acquistato i biglietti in biglietteria per gli adulti. L'ingresso costa la modica cifra di 3 yuan a persona. Sono ben 38 centesimi di euro. Una cifra ridicola per un parco così bello. Siamo dentro lo Zhongshan, mi perdonerete per la mia pronuncia, Zhongshan Park. Sempre sulla strada per la città proibita. C'è questo parco bellissimo, super pulito, super tranquillo, super curato, chilling totale, poca gente. E all'interno ci sono dei cipressi molto speciali che sono stati piantati durante la dinastia Liao. Alcuni di questi alberi hanno più di mille anni. E non soltanto gli alberi sono antichi perché anche questi edifici che vedete sono tutti stati costruiti nel 1420, 1421. Quindi hanno almeno 600 anni. A me questa architettura, quest'arte, questi colori mi fanno impazzire. Ma non soltanto gli edifici più antichi, anche questi più moderni. Maryland si chiama, quest'area costruita nel 1980. Ed è tipo un acquario, una zona acquario. Sì, ci sono dei pesci. E questi pesci sono anche raffigurati perché è il giardino dei pesci. Il giardino per ammirare i pesci. Non riesco a capire come mai in questo parco così bello non ci siano turisti stranieri. A me solitamente i parchi nelle grandi città non interessano troppo. Però questo è meraviglioso. Molto più bello, per esempio, di un parco popolare di Tokyo, il parco di Ueno. Dove tra l'altro è sempre pieno di turisti, cui occidentali non ce ne sono. Che poi in realtà, dopo l'aeroporto, non ne abbiamo incontrati. In effetti, durante il nostro viaggio in Cina, di turisti occidentali ne abbiamo beccati ben pochi. Oggi, men che meno, dato che è lunedì. E lunedì è il giorno di chiusura del Palazzo Imperiale. Quindi, la città proibita è chiusa, vi ci porterò un altro giorno. Nel mentre, non vi è venuta fame? Perché a me è venuta fame. Prendiamo? Dai, posso uno? Ah, ma è con la bibita. Lada. Ok, ok. Niente, volevamo mangiare qualcosa e ci siamo imbattuti nel chioschetto di questa signora che ci ha fatto assaggiare i mini ravioli. E sono troppo buoni. Solo che quando le ho chiesto una porzione intera, tutta adeguatamente condita, ce l'ho servita con questo bibitone sotto di non so cosa. C'ha la cannuccia gigante, spero non sia bubble tea. Tra l'altro si sta scaldando perché sopra ci sono i ravioli. Oddio, saggia. Buono! Sai di rossetto sciolto. È presente la scena di Omer in Brasile che si fa fare il succo con tutti i frutti più dolci? Questa cosa è dolcissima da bere. Vorrei uno sciottino di salsa di soia per compensare. 25 yuan così di aperitivo. Io spero vivamente che questo qui non sia coriandolo perché con questo caldo avevo proprio voglia di una tazzona di ramen spaghetti in brodo con carne brasata di manzo. Belli oleosi e spero anche piccanti. Sono ustionanti, molto buoni. Io ho aggiunto altro piccante perché voglio proprio soffrire. Peccato che sia tutto coriandolo. Cioè questo è coriandolo. Davvero? C'è coriandolo, sì. Però al tavolo accanto stavano succhiando con la cannuccia all'interno di questo mega raviolone che vorrei assaggiare. One. One. C'è c'è. Molto buono, molto piccante. Guardate queste gocciolone di olio piccante quanto trassudano capsaicina. Se non vi dà fastidio il sapore delle sueghe, retro gusto dovuto al coriandolo, ve lo consiglio. Bene, mi hanno portato il mio fantastico raviolone di battipaglia. Come potete notare traballa abbastanza, sembra un po' budinoso. In realtà è perché dentro è pieno di brodo, di zuppa e te lo servono infatti con questa cannuccia e c'è scritto di fare piano e di stare attenti perché giustamente il brodo è bollente. Non ho mai fatto queste cose. Non ha senso. È molto buono. È un'alternativa all'estate. Allora ti dirò, molto buono, molto dissetante. Non so bene come mangiarlo ma prima c'era un ragazzo qui di fianco a noi che lo stava mangiando assieme a un gelato. Cioè è entrato col gelato e ha mangiato il gelato insieme a questo raviolone aprendolo. Quindi lui l'ha aperto. È immenso. Credo che sia granchio. Allora, è veramente tanto buono. Del tipo che se facessero la versione e forse la fanno più piccolina ne mangerei 100. Bellissima la gag del succhiare il brodo con la cannuccia. E mi piace molto anche il fatto che ti facciano pagare mentre aspetti da mangiare. Così quando hai finito ti alzi e vai in un altro ristorante. Cosa che vorrei fare in questo momento ma... Vuoi uno spiedino? Ah sì, spiedino! Fanno tutti sti controlli di sicurezza e poi mettono in mano le persone degli oggetti contundenti. Cioè sono almeno 50 cm di spiedo, due spanne e mezza. Allora, ci siamo fatti mettere il piccante? È agnello! Sono arrosticini giganti. Stra buoni tra l'altro. Forse un po' scomodi da mangiare. Ma sai che sono spettacolari? Abbiamo speso 25 e finalmente siamo riusciti a pagare con WeChat. Quindi mostri un QR code e ti scala il pagamento dalla carta che hai collegato. Che finalmente ci hanno accettato. Molto buono. Super veloce, super buono. Per me è il miglior street food cinese per adesso. Punti in più perché come spiedo hanno usato un giavellotto. Prima di accedere alla metropolitana tutti gli ingressi hanno metal detector e scanner bagagli esattamente come in aeroporto. Tra l'altro noi abbiamo la testa dei mezzi. Ho caricato 200, no? Ecco, scopro ora che una corsa costa 3 yuan. Quindi forse ho messo su troppi soldi. Tutto ok, albero? Tutto ok? Bene, ottimo. Adoro questa cosa che fanno il karaoke per strada. Cioè hanno piazzato una televisione e fanno il karaoke sul marciapiede. Allora questa città mi sta facendo impazzire. Mi piace tantissimo specialmente la sera. Non so se mi piacerà anche questa cosa che mi ha fatto prendere la vale. Mi fa lo bevono tutti, provalo anche tu. È denso. Mi ha sparato un grumo di yogurt in gola. Sembra iron, ma molto più denso. Il dal è quella cosa che bevono anche in Albania. Però mi stopanna. È molto strano. Ma è freddo e sa di latte, quindi mi piace. Solo che l'abbiamo acquistato con un po' di difficoltà, per via della barriera linguistica. Un ragazzo che lo stava bevendo anche lui ed era lì presente, si è avvicinato adesso e mi fa, guarda che a me l'hanno fatto pagare 8 e a te hanno fatto un tourist price di 10. Non vado neanche a dirglielo. Brutto gesto. Bene amici, dopo aver girato parecchio per la città, direi che sotto questo sole meraviglioso possiamo anche uscire da Pechino e dirigerci verso nord, dove ci aspetta una delle cose che più volevo vedere in Cina. Andiamo a prendere la metro, vorrei andare in giro con questo. Che cos'è? È un triciclo uovo. Non vedo l'ora di vedere come sarà la Cina fuori dalla grande città. Anche se in realtà ci stiamo dirigendo in un posto super frequentato. Eppingman Station. Dobbiamo andare a Dong Zhimen. Andiamo a cercare l'autobus 916. Credo che i biglietti si facciano a bordo. Questa comodissima tratta in autobus da un'ora e mezza con le ginocchia in gola e gli zaini in bocca ci è costata la bellezza di un euro, anzi meno di un euro. appena siamo scesi all'autobus un tizio ha tentato subito di scammarci dicendo che il prossimo autobus non c'era che passava tra un'ora, che la biglietteria era chiusa. In realtà passa tra 5 minuti e si paga con la tessera dei mezzi. Voleva farci salire sulla sua auto. Era semplicemente un autista privato, però ha beccato un ragazzo rumeno, sta andando anche lui dalle parti di Mutianyu. Quindi andremo insieme nel mentre ci facciamo deliziare dalla voce di questo signore anziano cinese che sta cantando la fermata dell'autobus. Lo amo. Vuoi vedere una cosa fighissima? Guarda là. Ma è quella! È la grande muraglia cinese! È quella là! È quella veramente! Sembrava che il bus ci avesse mollato in un posto a caso. Invece siamo proprio nel posto giusto per andare a vedere una delle 7 meraviglie del mondo che mi mancano. E non sto parlando di lei! Dovremmo essere nel posto giusto, solo che è vuoto. Cioè non c'è qui nessuno. Burger King della muraglia cinese. H23 23, 23, sì. Adesso siamo in macchina con un tizio. Arrivati in stanza. Dormiamo a casa di qualcuno? La camera è piccolissima ma troppo bello perché c'è la vista sulle montagne. Adesso stiamo cercando di pagare il padrone di casa che ci sta anche facendo i biglietti per lo spettacolo serale alla muraglia cinese. Eh, spoiler, non c'era nessuno spettacolo serale alla muraglia cinese. Forse il nostro padrone di casa si è espresso male e ci ha anche mezzo fregato perché in realtà la casa in cui dovevamo dormire avrebbe dovuto avere un indirizzo, una posizione molto più conveniente. Infatti ci ha scarrozzato in macchina ma vabbè lo perdoniamo, tipo particolare. Aveva anche una foto di Boris Johnson, cioè di lui e Boris Johnson in salotto. Comunque alla muraglia cinese ci siamo andati, la vedrete nel prossimo episodio. Se vi va è uscito un video anche ieri mattina, lo trovate già disponibile sul canale. E in descrizione trovate il link a Todo Cambia, il libro il cui ricavato va tutto in beneficenza ad Emergenza Sorrisi. Quindi se lo volete acquistare vi lascio il link qua e per il resto noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 per una nuova avventura dalla Cina.